Demolite e mettete in sicurezza gli immobili, così un'ordinanza del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli nei confronti della ASL Toscana Sud-Est, a darne notizia la consigliera di Forza Italia Mary Stella Cornacchini. Esprimo grande soddisfazione, scrive in un comunicato per l'ordinanza del sindaco Ghinelli di demolizione e messa in sicurezza degli immobili pericolanti di proprietà in particolare dell'azienda ASL Toscana Sud-Est che si trovano al colle del Pionta. Da molti anni indico in quegli immobili una grave fonte di degrado urbano che poi si declina ulteriormente in un vero e proprio epicentro per il degrado umano. Numerose le mie segnalazioni e denunce su questa situazione non più tollerabile. Accolgo quindi, dice ancora la consigliera con grande favore, la decisione del sindaco nella speranza che questo sia un primo vero passo verso la riqualificazione del Pionta. L'ordinanza firmata da Ghinelli è datata 19 marzo e parla proprio di demolizione e messa in sicurezza degli immobili posti in Arezzo, colle del Pionta, di proprietà dell'azienda ASL Toscana Sud-Est, ordinanza che riguarda il progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori edilizia e sua per la promozione del territorio.